Per quanto riguarda la gestione del personale a che punto siamo? Dal punto di vista del personale abbiamo esaurito tutte le procedure che la legge del Rio prevedeva per la riduzione della spesa del personale del 30% attraverso percorsi di mobilità volontaria di nostri dipendenti verso altre amministrazioni pubbliche e facendo ricorso ovviamente anche per chi era nelle condizioni ai pensionamenti e prepensionamenti. Abbiamo completato questa manovra quindi a questo punto i dipendenti della città metropolitana sono quelli che risultano ad oggi. La Regione ha approvato poche settimane fa la legge regionale sulle deleghe quindi noi siamo finalmente nelle condizioni di avere un quadro le funzioni fondamentali che deve esercitare la città metropolitana li dice la legge. La legge regionale definisce le funzioni che la Regione delega alla città metropolitana in funzione di questo stiamo ridefinendo la pianta organica della città metropolitana e da gennaio la città metropolitana sarà in grado finalmente di entrare nella sua piena operatività.